Oh eccoci qui, facciamo anche il video commento subito perché il recupero lo voglio fare durante il video commento con il buon barbieri guarda che c'è entrata gente come il buon barbiere, il barrencea, su lei che mi piace molto l'importante è che rimanga Costic, autore di una pessima partita però proprio per quello, fino al novantesimo Locatelli che ha recuperato tutti i paloni possibili e immaginabili, tolto ovviamente Rabiot pure ha fatto una bella partita ma lui può rimanere Miretti tolto, Fagioli tolto però cacchio Costic fino all'ultimo lo dovete tenere comunque è entrato Chiesa che è una delle cose più belle della serata e proprio lui sta ricevendo una palla in proprietà ma chi me lo intercetta su lei di testa ma era fuori gioco ragazzi avevano detto in chat beh a lei che questa sera una scusante può dire che ha perso contro la prima del girone zaccata proprio in quel momento quinto gol del Benfica contro il fortissimo Maccabi che ci ha battuti 2 a 0 ricordiamolo sempre e perché è importante ricordarlo e in questo momento il Benfica grazie a questo quinto gol 5 a 1 e qua 2 a 1 lì cioè vabbè tol contrario è il primo nel girone quindi in questo momento stiamo perdendo contro la seconda del girone a dimostrazione che abbiamo incontrato veramente una bella io comunque a parte tutto il Maccabi lo considero una squadra scarsissima e non riesco a capire come abbiamo fatto a vincere soffrendo tra l'altro nel finale in casa e perdere lì in Israele non riesco proprio a capacitarmene per me è una sconfitta molto più umiliante anche del Monza che secondo me è una buona squadretta ma impressionante cioè perdere gol Maccabi ragazzi è impressionante non ho parole non ho parole è una squadra veramente scarsa e poi la qualità della sconfitta non è che noi attaccavamo e loro ci hanno fatto due contropiedi cioè proprio hanno vinto hanno vinto sul campo proprio per qualità di gioco espressa non riuscivamo a contenerli abbiamo sbagliato in difesa quindi vabbè comunque il Benfica che invece appunto a differenza di come alcuni pronosticavano il girone si è rivelato invece una bella squadra come tutte le squadre portoghese che stanno a palleggiare e giocare a calcio e quindi sta finendo questa Champions della Juventus con 5 sconfitte e una vittoria su 6 partite ricordiamolo sempre per chi adesso dirà che bella Juve che brava Juve Allegri e tutto il resto 5 sconfitte e una vittoria tuttavia questa vittoria questa sconfitta però ha tanti aspetti positivi e secondo me il primo di tutti è di aver giocato una bella partita forse in fondo in fondo non aver meritato la sconfitta perché il Paris Saint-Germain è stato molto allegriano stasera cioè le sue occasioni le ha ottenute con due lampi di due grandi fuoriclasse che sono Mbappé da una parte e Mendes dall'altra Mendes che tra l'altro ha lo stesso ruolo di Kostic giusto per chi volesse ricordare i ruoli del calcio no? largo a sinistra ma attenzione su lei arriva sul fondo e poi il cross viene rimpallato Chiesa molto interessante vedere Chiesa su questa palla vacante che ci arriva di prepotenza ginocchio contro ginocchio contro Mendes il che significa guardare guardare vabbè in realtà ha dato un pestone anche però dai diciamo non ha ritirato la gamba cosa molto bella il Paris Saint-Germain adesso avrebbe bisogno di trovare un gollettino uscirà sicuramente abbastanza deluso stasera nonostante la vittoria perché va a finire secondo però avrebbe dovuto fare qualcosina in più il Paris Saint-Germain ha vinto con due lampi di due singoli proprio gioco all'allegri diciamo così mentre invece la Juventus in fondo ha fatto una buona partita Cesni ha fatto anche qualche buona parata Bonucci e Gatti soprattutto hanno retto abbastanza bene sul primo gol di Mbappé sono sembrati tutti pirla però vi posso dire che molte difese sembrano di pirla quando segna Mbappé anche l'anno scorso il Paris Saint-Germain nella gara di andata di Champions contro il Real Madrid l'aveva risolta Mbappé alla fine saltando tutti come birilli e sembravano tutti degli idioti ma Mbappé è così quindi Gatti ha provato anche a tirargli la maglia non c'è riuscito Mbappé ha segnato e poi Gatti è stato pure ammonito forse era meglio che gliela tirava un po' meglio la maglia a sto punto però vabbè con i sei non si ottiene nulla la partita sta finendo in questo momento il quarto minuto sta scadendo adesso peccato perché io al pareggio ci credevo quasi perché e infatti finisce qui la Juve ufficialmente esce dalla Champions con cinque sconfitte e sei su sei partite e l'unica vittoria è venuta in casa col Macca contro una squadra che stava digiunando quindi quindi questa è la Champions della Juventus di quest'anno ripeto prima di dire anche che però siamo usciti bene perché tornando agli uomini in campo Quadrato autore finora di una pessima stagione ha fatto una bella partita questa sera perché a me piace dirlo sono molto onesto mi piace dire quando quando un giocatore gioca bene io non odio nessuno Quadrato stasera ha fatto una bella partita vi sposto sull'altro monitor così vi ho più vicini e vedete anche i miei capelli orribili e Alexandro anche lui mi sembra che sta giocando benino ultimamente non ci possiamo lamentare ma il centrocampo questa serie il centrocampo della Juventus è stato veramente bello bello e posso dirlo da volta bello Miretti ha fatto una partita che mi è piaciuta tantissimo avrebbe meritato il gol peccato su quell'azione di controvedere quando Melichetta della palla è stato un po' troppo lento e si è fatto recuperare però diamine Miretti ci ha provato Fagioli oh Fagioli ancora una volta che fa questi tocchi di prima questi passaggi belli in profondità questi lanci lunghi precisi questa tecnica ha perso un pallone proprio poco prima di uscire l'ha comunque recuperato Fagioli è quel giocatore che ti dà quel guizzo in più a centrocampo mamma mia ragazzi solo pensiero che potrebbe tornare McCennie tremo un rivido dietro la schiena e poi lo so che parecchi non lo stimano lo so che parecchi lo odiano lo so che nonostante tutto io lo dicevo da tempo ragazzi voi che saltate tanto sti McCennie e sta gente e vi scagliate contro Rabiot ma sto rabiotto poverino guardate che Rabiot stasera ha recuperato una marea di palloni e comunque si è proposto in attacco c'è stato un lancio lungo un lancio lungo che sembrava una valla versa ha arpionato un pallone in stile Pogba l'ha messo al centro e Milic non ci è arrivato perché stava molto indietro quindi a me estremamente non mi è affatto dispiaciuto neanche Rabiotto il centrocampo dell'Eventus per me è stato migliore del centrocampo del Paris Saint-Germain che ripeto ha vinto con due guizzi di due fenomeni Messi è stato ampiamente fermato da Fagioli da Mirette e da Rabiot in alcuni casi anche da Sandro da Quadrato quindi a me è piaciuto molto mape mape ragazzi è un altro pianeta e poi sto Mendes appena entrato ci ha preso un po' la sprovvista perché poi vedete che anche Mendes dopo il gol non è riuscito più e lì si hanno fatti un po' fregare peccato perché l'1-1 secondo me ci stava come risultato o al massimo il 2-2 dopodiché in attacco Kostic peggiore in campo ripeto ha perso una varia di palloni e soprattutto per me è stato decisivo un contropiede anche molto bello nato su una palla recuperata da Rabiotto che era stato tra l'altro dopo falciato ci ho capito bene non è stato neanche ammonito dopo vabbè il giocatore del Paris Saint-Germain che ha fatto fallo comunque parte sto contropiede Milik dalla palla a Kostic e sbaglia e fa partire il contro-contropiede e basta speravo che lo togliessi invece no fino al novantesimo è rimasto Kostic peggiore in campo e Milik avete presente quando giocano lui e Vlaovic e Milik fa tante belle robe e Vlaovic è assolutamente inesistente ecco Milik si è molto Vlaovicizzato per cui mi chiedo cos'è è il periodo è la sfiga è la coincidenza o è proprio il ruolo cioè la Juve di Allegri è una squadra che non riesce a valutare molto le prime punte quelle lì proprio effettive arrivano pochi palloni al centro è una squadra che preferisce sempre andare verticalmente e forse a sto punto era meglio più un attaccante fin di un falso nueve come si dice cioè mi verrebbe da dire cacchio ti tenevi di bala a sto punto ma vabbè di bala nel palermo iniziò proprio prima punta con Vasquez erano tanti tempi lontani con Zamparini e comunque tornando a noi alla fine Kostic è andato così e poi ha fatto più chiese in dieci minuti che Kostic in quindici partite appunto poi dopo i vari cambi però mancava un altro uomo dall'altra parte appunto che no le ho detti tutti che ho saltato in formazione che ho saltato in una formazione ufficiale che che ha giocato più nella formazione iniziale vi era anche Milik Mirette Locatelli Rabiot Fagioli Quadrato Costi Celsato e poi i cambi su lei è entrato bene mi è piaciuto molto invece parliamone perché la cosa importante è il rientro di Federico Chiesa lì ragazzi è stato emozionante vedere Chiesa che non ritira la gamba Chiesa che che crossa Chiesa che ha recuperato una bellissima valla persa la ripresa si è girata e si è andata in aria secondo me veramente è l'ultima scelta è vero però l'ultima scelta è una cosa tipica dei giocatori che poi si intendono trovano un bel feeling con i compagni e allora l'ultima scelta è un è un qualcosa un'alchimia capito degli attaccanti che sanno il tuo movimento e segui il movimento ci si capisce al volo perché a volte l'ultima scelta è qualcosa di rapido non può essere aspetta un attimo fammi vedere chi c'è in aria e no e no già hai perso il tempo l'ultima scelta è vedere in un attimo sapere già in anticipo che lì c'è Vlaovic che attacca il secondo palo Milic che attacca il primo e Rabiot che si inserisce e Fagioli che sta dietro se casomai perdo la palla ed è così quindi io spero che anche perché ragazzi siamo onesti McKennie non è che uno si vuole accanire contro certi giocatori ma anche Rabiot Rabiot insieme a McKennie sono giocatori che quasi sicuramente non saranno il prototipo della futura Juventus ecco perché Miretti e Fagioli devono giocare Vlaovic è un acquisto troppo importante certamente non può andare via a meno che poi non c'è l'offertura ma questo non va via Milic secondo me è un giocatore che sta dando tanto potrebbe anche restare Miretti e Fagioli devono proprio adesso giocare con quei giocatori che poi saranno i titolari del futuro per creare già il nuovo organico perché così è no non la leggo Blue Lock non ho proprio tempo di leggere Blue Lock e comunque è così alla fine la Juventus ha fatto vedere qualcosa di buono certo la Champions stendiamo un velo pietoso va in Europa League la cosa personalmente non mi dispiace per quelli che chiedono ma non era meglio no ma perché no mi piace fare l'Europa League mi piace avere comunque un impegno settimanale un impegno europeo puntare perché no a questo punto qui anche ad andare avanti perché ricordiamoci che l'Inter non la voleva neanche fare è comunque arrivato in finale ringraziamo sempre Lukaku per il salvataggio sulla linea perché diciamoci la verità ci avrebbe fatto un po' rosicare perché poi magari lì almeno c'è una speranza la Juve di quest'anno pure che andava avanti in Champions usciva subito agli ottavi era ovvio Europa League magari se questa squadra che per me non è scarsa e non è la prima volta che lo dico questa squadra non è scarsa questa è la vera Juve non quella che perde col Maccabi e col Monza questa è la Juve la Juve c'è là l'organico e c'è anche giocatori che stanno rientrando Vlovic rientrerà Pogba se Dio vuole rientrerà vediamo se veramente è come così e rosicheremo la Champions la Vincellava le dice il Bupap vabbè vedremo vedremo però almeno a fare una c'è oh Napoli vince la Champions la Juve l'Europa League facciamo una bella Supercoppa Europea Napoli e Juventus l'anno prossimo cazzo invece di farla sempre come Supercoppa Italiana la facciamo come Supercoppa Europea no? dai 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 vediamo che succederà ragazzi comunque il fatto che sta iniziando il mondiale ci sarà un po' di tempo per recuperare alcuni uomini Pogba chiesa che è rientrato ed è rientrato bene effettivamente è una sconfitta triste è una serata triste della storia juventina perché la Juve ripeto esce dalla Champions con cinque sconfitte su sei partite come se fosse la Tel Aviv di turno la Steau o Bucarest di turno usciamo proprio così male come squadra materasso insieme all'altra squadra materasso che ci ha battuti a casa sua quindi una serata triste però fa niente ormai un po' di rassegna un bel po' di rassegnazione ce l'abbiamo già il trauma l'abbiamo già in parte come dire ammortizzato cerchiamo veniamo in campionato stiamo iniziando lentamente a macinare qualcosina vediamo un po' che succede con questi rientri con un Europa League che è più alla nostra portata è come se quest'anno che è brutto è triste però magari potesse un attimino ristabilizzarsi su come posso dire su un tipo di peso come direbbe un culturista più alla nostra portata cioè fai la panca metti i chili troppo alti vedi che non ce la fai ti rompi un gomito a quel punto allora decidi di abbassare il peso sei un po' triste perché avresti voluto alzare pure tu il mondo come fanno alcuni però trovi il tuo peso vedi che ce la fai e a quel punto lo accetti e decidi per quest'anno di andare avanti così per costruire e gettare soprattutto le basi per il futuro ma io ho sempre una grande paura ho una gigantesca paura che appena torneranno gli amati gli amati di quello lì ho paura che fagioli non lo vedremo più miretti non lo vedremo più eccetera eccetera io ho paura che il centrocampo titolare sarà quello che diceva Allegri quindi Pogba c'era neanche Locatelli c'era nel centrocampo McKennie Rabiot eccetera e ho tanta paura di questo ho tanta paura quindi spero che non accada ma vedremo vedremo durante il mondiale che fa no in realtà avevo fatto un contest su quale nazionale seguire pensavo il Giappone ci guardiamo ci facciamo le Twitch cronache delle partite del Giappone Ben Nasser partita mostruosa Ben Nasser così gioco ovunque ma il Milan parlavamo prima vabbè adesso non posso stacquire a dire tutto ciò che ci siamo detti in chat abbiamo parlato di tantissimi argomenti anche su altre squadre c'è poco da fare ragazzi il Milan ha trovato alcuni giocatori Ben Nasser tonali per non parlare di Leao Ternandes eccetera il Napoli ha trovato Simen Cravazzevele cioè questo è quello che è mancato a Liga in questi anni andare a cercare questi giocatori li ha provati perché McKennie perché Arthur perché Ramsey rientravano in questo tipo di giocatori che tu li prendi a poco e speri di aver fatto l'affare li abbiamo sbagliati tutti però una cosa è buona della società lo scouting a livello giovanile perché ha che sulle miretti fagioli onestamente mi sembrano giocatori che valgono healing junior cioè infatti la domanda una delle domande era ma perché non prendiamo sti scouting del giovanile e li mettiamo in prima squadra e facciamo un po' di pulizia ma questa è un'altra storia bene ragazzi buonanotte a tutti sono le 11 andiamo a dormire vi ringrazio per averci seguito mi raccomando soprattutto fate i bravi e ci vediamo a breve per o ne piace fra due giorni buonanotte ciao ragazzi ciao ciao ciao